Un'edizione straordinaria che parla di rinascita e resilienza, così Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ospite al Giffoni Film Festival, ha commentato il cinquantesimo anno della Kermess, chiarendo come il mondo della politica debba guardare i giovani per far ripartire il paese il mezzogiorno. Questa edizione del Giffoni non era scontata ed è uno straordinario regalo per l'Italia, ma anche per tutti i ragazzi che hanno passione per il cinema. È la prova che l'Italia ce la può fare, è forse la prima prova della resilienza di questo paese e del mezzogiorno. Dobbiamo mettere al centro il lavoro per i giovani e il fatto che nel mezzogiorno, dove ci sono tantissimi talenti, tantissimi giovani che hanno qualità e competenza, ecco la politica deve fare in modo che questi ragazzi possano rimanere qui. Il capogruppo di Forza Italia ha poi affrontato anche il tema delle prossime elezioni regionali. Io sono qui anche per sostenere Stefano Caldoro, il nostro candidato, che è persona di esperienza e di competenza. Io credo che la campagna abbia bisogno non di un anchorman, ma di un amministratore capace, serio, che possa avanzare delle politiche importanti in materia di occupazione, in materia di infrastruttura. La gestione Covid di De Luca invece cosa ne pensi? Ma è stata una gestione improvvisata che lascio ai cittadini giudicare. Noi dobbiamo evitare di morire di Covid, ma non dobbiamo nemmeno morire di fame e quindi abbiamo bisogno di una sanità che venga rilanciata da un lato, ma dall'altro di una ricetta economica liberale.